In azienda tutti i genovesi che hanno scelto di rimanere e investire sul territorio. Sì è vero, io come dicevo sono presidente di questa holding che possiede questo gruppo di aziende che lavora nel settore delle riparazioni e costruzioni navali e noi soci, siamo tutti genovesi e abbiamo ormai un legame talmente forte con questa città che nonostante mancanza di territorio, una situazione precaria che dura da un po' troppi anni comunque perseguiamo la nostra intenzione che è quella di continuare a resistere in questa città. È una delle attività che io ritengo qualifichi la nostra regione e la nostra città, nel senso sia turismo che high tech che tutto quello che riguarda il navale sono le attività sulle quali deve puntare Genova e la Liguria.